Ecco qui, questo è il nuovo HTC 8x, è uno smartphone di fascia alta per quanto riguarda la gamma di HTC per Windows Phone 8. Possiamo vedere le sue qualità per quanto riguarda la parte esteriore. Qui abbiamo per esempio la descrizione, eccola qui. Quindi c'è una parte dedicata frontalmente allo schermo, che quindi è di dimensioni generose e abbiamo quindi sul lato poi i due pulsanti che sono dedicati al volume e allo scatto. Nella parte alta c'è la parte che è dedicata all'accensione, allo spegnimento, mentre c'è un LED qua davanti integrato per quanto riguarda la ricarica. Qui nella parte posteriore come possiamo vedere c'è la fotocamera e possiamo dire che il materiale utilizzato è di tipo soft touch. Qui frontalmente abbiamo i tre tasti tipici nell'utilizzo di Windows Phone, quindi abbiamo il tasto dedicato al ritorno in home e a diverse altre funzionalità come per esempio la possibilità di prendere screenshot, ma anche quella di interazione vocale con il sistema operativo. Con il tasto della freccia rivolta verso sinistra possiamo andare quindi a tornare indietro nelle varie applicazioni e poi c'è la ricerca su Bing. La ricerca su Bing per esempio è possibile cercare sia tramite voce che tramite testo, quindi possiamo andare poi a cercare quelli che sono le parole chiave. In questo caso non c'è collegamento Wi-Fi, quindi non è possibile accedere direttamente alla ricerca, ma possiamo dire che comunque Internet Explorer 10 che è integrato in questa versione è decisamente più avanzato di quello che potevamo trovare nei precedenti dispositivi. Di per sé questo HTC è decisamente un buon passo in avanti, probabilmente è leggermente inferiore al 920 per quanto riguarda alcune caratteristiche, pur mantenendo comunque quelle che sono le caratteristiche base di un Windows Phone di fascia alta. Ovviamente però il prezzo è commisurato a quelle che sono le differenze tecniche, ma questo non deve scoraggiare gli acquerenti che si potranno trovare quindi un telefono completo, ma comunque ad un prezzo inferiore a quello che potrebbero essere quelli di altri concorrenti nella stessa fascia alta di Windows Phone.